Benvenuti, vediamo come poter facilmente realizzare delle video lezioni con l'app Loom. Realizzare delle video lezioni ci permetterà di salvare i nostri contenuti, condividerli facilmente con i nostri studenti e renderli sempre reperibili quando sono necessari. L'app Loom è un'app molto semplice da utilizzare in quanto permette di realizzare i nostri video direttamente online senza dover scaricare alcun software sul nostro computer. Il piano gratuito permette di registrare video illimitati, scaricarli, modificarli, condividerli e anche associare una password per proteggerli e condividerli quindi solo con i nostri studenti o con gli utenti a cui noi decideremo di dare questa password. Ma andiamo subito a vedere come funziona Loom. Il mio consiglio è quello di installarvi l'estensione per Chrome. In questo modo avrete sempre l'app a vostra disposizione ogni volta che vorrete registrare lo schermo del vostro computer. Quindi come prima cosa vi consiglio di andare sul Chrome Web Store. Una volta che effettuerete l'accesso al Chrome Web Store potete digitare Loom nella barra di ricerca. Quindi avviate la ricerca. Ecco l'app Loom. Allora in questo caso a me compare il pulsante Valutalo perché io ho già scaricato questa estensione nel mio browser Chrome. In caso contrario invece vi comparirà il pulsantino Aggiungi per poterla aggiungerla al vostro browser. Una volta installata l'estensione sul vostro browser Chrome vi apparirà questo simbolo qua in alto a destra. Da qui potrete facilmente lanciare l'applicazione per registrare le vostre video lezioni. Andiamo adesso a vedere come funziona. Quindi mi sposto su un'altra pagina e provo a lanciare l'applicazione. Vado a cliccare qui sull'icona. Come vedete io posso decidere se registrare schermo più webcam, se registrare solo lo schermo o se registrare solo la webcam. Ovviamente mi dovrò ricordare di attivare il microfono audio. Mi verrà anche chiesto il permesso per utilizzare sia il microfono che la fotocamera. Quindi noi dovremo dare il consenso in questo caso. Una volta che lanciamo la nostra registrazione, quindi cliccando su Start Recording, ci verrà chiesto poi se vogliamo registrare tutto lo schermo del nostro computer per poter facilmente andare da una finestra dell'applicazione all'altra oppure se vogliamo registrare la sola finestra dell'applicazione, cioè la sola pagina in cui stiamo lavorando al momento. Una volta che abbiamo selezionato la nostra opzione non ci resterà che cliccare su Condividi e quindi far partire le nostre videoregistrazioni. Ci comparirà qua in basso un menu da cui potremo impostare la videocamera, bloccare e cancellare la videoregistrazione, mettere in pausa oppure salvare la nostra videoregistrazione. Cliccando invece su questi tre puntini possiamo nascondere questo menu. Una volta registrata la nostra videoregistrazione apparirà così nel nostro account Loom. Da qui noi potremo facilmente copiare e incollare il link, quindi condividerlo. Potremmo aggiungere una password al nostro video per mostrarlo solo agli utenti scelti da noi. Possiamo ancora cliccando qua sulle impostazioni attivare commenti, notifiche e emoticon. Possiamo tagliare il nostro video cliccando qua su Trim. Abbiamo la possibilità di modificare ancora il nostro video. Cliccando qua su Start Trimming noi avremo la possibilità di tagliare una porzione di video e quindi poi rimuoverla facilmente. Una volta effettuate le nostre modifiche ci basterà cliccare qua su Publish Changes. Un'altra opzione molto interessante è quella di poter scaricare i video direttamente sul nostro computer tramite l'icona del download. Presente qua in basso sotto il video qui a destra. Opzione molto interessante che ci permetterà poi di caricare magari successivamente i video per esempio nel nostro canale YouTube. Per il momento è tutto, spero che questa app possa esservi utile per registrare le vostre video lezioni.